Andiamo al segno dello scorpione, bellissima notizia questa venere che transita nel segno dei pesci novità importanti per l'amore, i sentimenti ma non solo questa venere riguarda anche la fortuna, la capacità di trovare soluzioni inattese, inaspettate anche problemi che vi portavate dietro chissà da quanto tempo la luna però transita nel segno del toro quindi questa è una giornata un po' dalla doppia faccia in cui nonostante le persone intorno a voi vogliano in tutti i modi coinvolgervi e mettervi nelle condizioni migliori anche per vivere dei momenti allegri voi terrete sempre un po' il broncio ecco e questo insomma alla fine finirà con il complicare molto anche il rapporto con le persone che vi circondano